c'è il mantecardo ah con la roviola con questa buonissima no la mangiavo quando ero piccola buonissima via roviola buonissima mamma mia vai lo trovarai tu adesso vai pianino occhio alle mani perchè sennò te le peli e non è carino voglio una mano è bianca però hai le mani tutte pitturate andatele vai tirati sulle maniche dama eh si aspetti qua siamo lavorando stiamo facendo un piatto unico comunque dovevi tagliare il topenambu più piccolino va bene capa dove l'hai messo? ormai è già andata ah l'hai messo già dentro? non hai letta la ricetta amore? eh 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 allora Ale sta lavando le mani? si perchè ha colorato di blu il topenambu no lo so però almeno hai tolto il primo strato che colorava tutto il primo topenambu blu della della storia aspetta aspetta che devi fare? che ragazzi? 18 minuti cosa devi fare? aiutare? dai che ti sposto? no devi tagliare il primo dai è pericoloso fagli mescolare un po' fate che ti sposto qui c'è un caldo vai seguilo tu puoi mescolare come si vuole grazie si abbiamo già fatto tutto questa è la ricetta vedi come diventa il piatto si cosa ha spaccato? ho preso il cappello da top chef lo metto io che è? che è? che è? che è? io ho e tu vai top chef top chef top chef ok buttagamo a m***a anche questo intanto che ci siamo ma non c'è da mettere quello cioè mette scorso di limone e il timo sopra alla fine va bene timo? ma chi è timo? ti dai al fungo? tu devi tenere dietro il riso se non lo tieni dietro mi sai cosa attacca tutto il riso ci mangiamo il riso staccato tutto bene chef ci manca solo il topolino qui dentro che lavora esatto eh? come faceva la tattoo con il topino? Rémi no Rémi cosa? Rémi 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 Anzi buona il duro buonissimo è tì è tì è tì è tì non è ancora pronto? Anzi proprio va con i rammuscelli il timo ma va ma quanto è un teo? vero? ancora molto la regia dice non lo sa che regia ci avete mandato? non mi sa non mi sa ahahah ahahah vai a sederti vai che è lei Belele ah ah eh Belele eh allora ci hanno mandato anche il pane che io sto ando fare pallino cittella è buonissimo amore mio ah però lei mangia fa un buco poi mangia tutta la mollica e lascia la crosta ahahah ahahah chi lo vuole io ci lascia questo chef quanti minuti sono 6 minuti ma sette quindi mancano un pezzettino di pane non ha mangiato nessuno se l'ha tagliato come ve l'è ragazzi c'è la cucinale si attacca di 5 hai ragione ci vediamo già un po di sale adesso grazie no no ma per fare sì c'è scritto regolare con un po di sale c'è già il sale appena appena così guarda no c'è scritto allora c'è scritto regolare di sale regolare di sale è vero ale quindi c'è scritto mescola no 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 questo dobbiamo metterla tutta puoi appoggia la mano qua una qua ma perchè se ti sbilancia un casino finisci anche tu lì dentro facciamo lo spezzativo vai che qua ci pensiamo noi che ho cucinato il piatto se si dice un cuoco non un cucino sei un cucino sei un cuoco molto viricchino non un cucino bravo ma la lì adesso deve cuocere un pochino comunque lui se fare un cuoco sarà detto alla mescolazione di avviso è bravissima dai cosa c'è scritto leggo c'è scritto tutta tutta l'italia leggo c'è scritto tutta l'italia tagliare sentiamo se pronto sera ancora sentiamo sono insieme amore domani sera bello sì perché impari anche delle ricette bello cosa c'è cosa c'è hai fame? dobbiamo mettere ancora un po' di acqua eh sì, non ti è passato dall'ultima coppata facciamo così, vi ho dato a quando è arrivato Sergio vi è arrivato Sergio? sei lì? ti fa? ascolta un'altra coppata? no c'è un altro progresso che non ha ragione ma che non fa calmo o lo fa? sì ok sei sicuro che non dobbiamo tagliarlo amore? no, devi mettere il rametto un rametto può essere sacro qui questo lo prendiamo vai insomma come sempre mettiamo in cucina nella sola mescola amore non ti voglio vedere dentro io capito? sì aspetta aspetta che vedi che sprezzi tutto non mangi sale tu vuoi? no non mangi te va bene qua c'è scritto che dobbiamo anche un po' di scorza di limone sopra secondo te con cosa hai fatto la buona scorza di limone? c'è confine 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 oddio si rompe tutto oh sta male? pochino di sta male? ciao Mary ciao ciao pochino di pochino di pochino di sta male?